Quindi non eludetevi che mangiando le ciliegie che sono solo frutta non si ingrassi perché anche quelle sono molto caloriche, molto dolci infatti. Andiamo avanti, l'Orchestra Sinfonica della provincia di Bari il 28 maggio prossimo torna a suonare al Petruzzelli con un concerto diretto dal maestro Arciuli. Ci sono state prese di posizione all'interno della Fondazione? In che senso? Nei rapporti con la Fondazione si sono schierati gli esponenti dell'Orchestra Sinfonica della provincia di Bari. So già che sta per procedere con qualche stoccata? No, l'Orchestra della provincia di Bari è un'orchestra storica, è un'orchestra apprezzata in tutto il nostro paese, in tutto il mondo. È un'orchestra che vanta un consolidato artistico di alto livello, di alto spessore, quindi Petruzzelli deve essere onorato di avere l'orchestra della provincia di Bari e viceversa. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che invece la Fondazione di recente formazione, quindi l'orchestra della Fondazione, non ha lo stesso valore? No, credo di no. Artisticamente non si può... Io ho detto che viceversa, non ho detto che ci devono essere figli e figli asti, ci deve essere una leale competizione, se ci fosse anche una collaborazione tanto di guadagnato. Adesso è più chiaro il senso delle sue insinuazioni, torniamo su questo argomento, prendiamo prima una telefonata e torniamo, pronto? Buonasera Presidente, buonasera alla signora. Se volevo chiedere al Presidente se siete d'accordo su questa frase, o con Proti o con Berlusconi, sono vuote le tasche dei pensionati nei pantaloni. Grazie. Grazie, grazie per il suo intervento. Ma io ci aggiungerei soltanto una cosa, sono non vuote, sono più che vuote, quindi un più in più. Quindi non c'è più speranza nel colore politico? No, bisogna, guardate, bisogna secondo me mettere giù un programma serio, dobbiamo dire, noi dobbiamo rimettere nel mondo del lavoro i giovani, per rimettere nel lavoro il mondo dei giovani non dobbiamo tassare i giovani, quindi per 5 anni, per 10 anni nessuna tassazione è giovane, nessuna tassazione ha le imprese, agli enti che vanno ad occupare quei posti attraverso i giovani, quindi motivare i giovani. Non dare ai giovani il contratto, togliere il termine di contratto a termine e il contratto a tempo indeterminato, il contratto è contratto e rimane contratto ad vita, ma secondo degli obiettivi da perseguire, in maniera tale da motivare anche gli stessi giovani. Solo in questo modo possiamo crescere. Per quanto riguarda la previdenza, siccome l'aspettativa di vita cresce e quindi ci saranno sempre più anziani rispetto ai giovani, dobbiamo far sì che i giovani possano anche non essere assicurati dallo Stato per quanto riguarda la previdenza, ma offrire ai giovani le opportunità di crearsi una loro previdenza e quindi di colloquiare con gli istituti assicurativi, in maniera tale che le assicurazioni stesse, con un minimo di impegno economico, possono garantire però il futuro lontano dei nostri giovani quando diventeranno anziani. E poi bisognerà mettere anche degli steccati per quanto riguarda l'impegno delle persone anziane. Cioè non possiamo tenere anziani, parlo io che sono già un giovane adulto, arrivati a 70-72 anni, stop, dobbiamo dare spazio ai giovani. Se noi a 70-72 anni continuiamo ancora a voler occupare determinati posti, noi non vogliamo il bene dei nostri giovani, c'è poco da fare. E i costi della politica, la politica deve costare di meno. Io prendo ad esempio l'Emilia-Romagna, è una regione che è sempre stata, se non sbaglio, di colore politico di sinistra, no? È una regione, sì, rossa. Benissimo. Ha abolito il vitalizio ai consiglieri regionali, non prendono più la pensione. Perché un consigliere regionale, basta che si fa qualche anno di consigliere regionale e poi percepisce 3.000 euro al mese vita natural durante. L'ha abolito. Sto parlando di una regione di sinistra. Invito le altre regioni di sinistra a imitare l'Emilia-Romagna e poi a quelle di centrodestra. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Presidente, le faccio un'altra domanda, di un altro genere. Lei non crede che San Nicola, che ha centinaia di milioni di fedeli, eppure Barri non ha un ritorno economico su questo santo importante? Lei non crede che Emiliano, Padre Bova e responsabile russo devano pulirsi intorno al tavolo per dare la stessa dignità a chi ha Mediugorio, chi ha Luz, in maniera tale che Barri abbia questo grande ritorno economico su questo santo, che realmente lo conoscono tutti? Grazie Presidente. Grazie per il suo intervento. Fare di Bari una meta a una città del peregrinaggio, così come viene in altre città, un po' inevitabilmente. Non localizzarla, non localizzarla, in effetti ha ragione il telespettatore, non limitarla soltanto nel periodo di maggio, ma far sì che venga destagionalizzato, che diventi proprio una meta come lo è San Giovanni Rotondo, insomma, ampliando tutto ciò che è legato a questo santo, che è un santo poi universale. Però devo dire che questo gemellaggio di tipo religioso, della fede, tra italiani e russi, tra Bari e la Russia, ha già portato degli effetti positivi, credo, sul nostro territorio? Sì, ma bisognerà ampliarli ancora di più, in maniera tale che San Nicola si interceda anche per i Bari e quindi che possa far venire i russi a far sì che i Bari possano andare in Serie A e magari competere con la Champions League. Chissà, hanno vociferato dell'eventuale presenza di Abramovic qui da queste parti, chissà ti ha mandato qualche osservatore nel campo. Nero su bianco, dobbiamo vedere, perché di parole, molte parole. Assolutamente sì. Rimandiamo a questa eventuale polemica tra l'orchestra della Fondazione. Ma no, ma non sono polemiche, ma smettiamolo di essere polemici, noi dobbiamo cercare di andare d'accordo insieme, di mettere in cantiere, di mettere in mostra le cose più belle che abbiamo, non di lottarci. Anche perché questo è poco ma sicuro, con l'entrata della Provincia di Bari all'interno della Fondazione, scongiurata ogni tipo di frattura e di frizione, a sfondo anche un po' politico tra la Fondazione e l'orchestra, il Petruzzelli riapre le porte per l'orchestra della Provincia di Bari, tutti invitati il 28 maggio. Sì, io non potrò partecipare perché ho già degli impegni altrove, però è ovvio che spiritualmente sono lì presente. Sotto la direzione del maestro Arciuli, lo diamo come appuntamento perché credo che sia un bel e un grande rientro all'interno dei politici. Siamo in chiusura di questa puntata, nella prossima daremo le risposte ai cittadini, ricordiamo sul bosco di Tramodugno e Bitetto e poi sull'altra questione. Non è Tramodugno e Bitetto, io ho scritto Tramodugno e Bitetto, è un boschetto Tramodugno e Bitetto, è scritta Manent, Verba Volant, io l'ho scritto e quindi è certo che sia così. Dobbiamo invece dare la risposta all'altro telespettatore per la fermata, ho scritto anche questa, nei pressi di San Giorgio, Monte Telegrafo, quindi ho scritto anche questo, vi do la garanzia di aver preso appunti. Ci fermiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie ovviamente anche al Presidente della Provincia di Bari, Francesco Schitulli. Continuate a scriverci durante questa settimana all'indirizzo di lo schitulli-chiocciolatelebari.it, l'appuntamento torna l'edì prossimo alle 15.30. Arrivederci. Grazie a tutti.